Gli agenti del commissariato di Gela, della squadra mobile di Caltanissetta e i militari del reparto territoriale dei carabinieri di Gela hanno dato esecuzione a due provvedimenti restrittivi, custode cautelare in carcere e messe dal GIP presso il Tribunale Lirio Conti, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Andrea Sodani, con il coordinamento del procuratore capo Fernando Asaro. In manette sono finiti Saverio Di Stefano, 24 anni, e Giuseppe Trubia, di 21 anni, responsabili di minacce e danneggiamento a mezzo dell'esplosione di colpi di arma da fuoco, porto di arma da fuoco con matricola a brasa e ricettazione. L'attività di indagine, chiamata Far West, scaturisce da una incisiva azione di contrasto alla commissione di danneggiamenti a mezzo di colpi d'arma da fuoco, azione criminosa tipica della realtà criminale gelese, alla stregua degli incendi di autovetture, ai danni di attività commerciali e abitazioni private, che gli uffici della Polizia e dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno posto in essere grazie al costante monitoraggio della realtà criminale gelese, attenzionando in particolare gli arrestati di oggi risultati di autori delle azioni criminose indicate. Nello specifico, il 26 giugno scorso, attorno alle 14, ignoti malviventi hanno esploso, utilizzando un fucile a canne mozze, quattro colpi all'indirizzo del bar Crispi, terrorizzando la barista, unico soggetto presente all'interno del locale, che una volta resa conto di ciò che stava accadendo, si è data precipitosa fuga da un'uscita sul retro. Mentre i Carabinieri del reparto territoriale di Gela si portavano sul posto per l'attività di routine, veniva segnalato che poco prima erano stati sparati alcuni colpi di fucile all'indirizzo della porta d'ingresso di un'abitazione ubicata in via Generale Cascino, nonché di un motociclo che era parcheggiato davanti alla porta di proprietà del padrone di casa. Il personale del commiserato di Gela e della squadra mobile di Caltanissetta immediatamente giungevano sul posto per gli accertamenti. Dalle primissime notizie acquisite, grazie allo scambio informativo avvenuto fra gli uffici con il coordinamento della locale procura, si comprendeva che i due gravissimi episodi potessero essere collegati, visto il modus operandi adottato dai malviventi, nonché dal legame familiare esistente tra il proprietario del bar Crispi e il soggetto che abita in via Generale Cascino. Immediatamente venivano acquisite tutte le immagini delle telecamere che coprivano le zone interessate degli eventi, individuando l'autovettura utilizzata per compiere i due atti intimidatori, peraltro risultata rubata qualche giorno prima a Gela.